Ciao amici, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo finalmente le date per i prossimi tre mesi, ovvero anche per l'anno 2024, iniziando da gennaio e febbraio, però su questa pagina troverete ancora dei voli anche per il mese di dicembre. Quindi, se siete interessati e vi volete organizzare per il vostro prossimo viaggio, questa pagina vi sarà molto d'aiuto. Ora vi farò vedere il perché. Allora, scrollando in giù, troverete i viaggi di gruppo, per la prima cosa sono quelli per la Moldavia, ovvero per Cicino, e come al solito noi abbiamo messo tutti lì aeroporti che hanno il volo diretto per Cicino. In questo caso trovate Milano Malpensa, Milano Bergamo, allora Milano Bergamo iniziando dal primo di dicembre fino al 28 di febbraio, quindi per i prossimi tre mesi proprio al 100%. Poi abbiamo Roma Fiumicino, abbiamo Bologna, abbiamo Venezia, ci sono anche voli da Parma, da Verona, da Torino, e come al solito mettiamo sempre delle date anche dagli aeroporti, diciamo, o anche dalle città internazionali, come in questo caso Londra, Nizza, Bruxelles, Stoccarda, Istanbul, Francoforte. Allora, una cosa importante che vi volevo dire è il fatto che se ci sono di voi persone, ad esempio da Francoforte in questo caso, che abbiamo qui la data di 4 di dicembre, dovete sapere già che il 4 di dicembre ci saranno delle persone che viaggiano da Francoforte verso Cicino, quindi sempre quando sceglierete una data da questa pagina che io vi sto mostrando ora, non sarete da soli perché queste date sono per i viaggi di gruppo, quindi qualsiasi data voi scegliete da tutta questa lista, da tutti questi aeroporti, significa che non sarete da soli, c'è già una persona che viaggia in questa data, minimo una persona, però ovviamente ci sono 10, 15, 20 e così via. Poi, ovviamente abbiamo anche le date, i viaggi di gruppo, per le persone che viaggiano oppure si vogliono organizzare con una cura per la Romania, ovvero Bucharest o Brasov, in questo caso ci sono voli da Alghero per il 12 di dicembre, però ovviamente noi ogni giorno aggiorniamo la pagina e sicuramente ci saranno altri voli da Alghero in questo caso, sia per gennaio che per febbraio, dovete sempre entrare di nuovo sulla pagina e studiare tutte le date. Quindi abbiamo da Milano a Malpensa, ovviamente da Bergamo, ci sono tantissime date da Bergamo, tantissimi viaggi di gruppo da Bergamo, Roma a Fiumicino, Roma a Ciampino, Bologna, Pisa, Pescara, Basilea, Napoli, Bari, Torino, Venezia, Catania e poi ovviamente anche come a Chisina abbiamo altre città come Londra, Bruxelles, Stuttgart, Düsseldorf, Nizza, Berlino, Amsterdam, Riga, Bristol, Dortmund. Allora, una volta che vi siete decisi con la data con cui vi volete organizzare, quello che dovete fare è molto semplice, praticamente dovete cliccare su ApriChat, viaggi di gruppo e in questo modo vi collegate in modo automatico alle mie colleghe del back office che loro vi aiuteranno con tutte le informazioni necessarie, vi daranno anche un prospetto di volo, vi aiuteranno appunto con tutte le domande e sicurezza che avete voi. Quindi è molto importante, forse lo sapete già, organizzarvi il prima possibile, poi appunto per questo abbiamo creato questa pagina e vi diamo già le date per il prossimo anno, ovvero per il 2024, così per potervi organizzare meglio. Vi vuole dire che abbiamo già tantissime prenotazioni per il prossimo anno, anche per dicembre siamo quasi in full booking, quindi se volete ancora venire al mese di dicembre, studiatevi le date su questa landing page e organizzatevi il prima possibile. Ho detto molto semplice, ApriChat, viaggi di gruppo e noi saremo sempre a vostra disposizione. Vi saluto e vi aspettiamo in tanti. Ciao!